Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro amico Robo de Reals e vi do il benvenuto al primissimo quiz Sergio Night Show. L'unico quiz che potete trovare sulla pagina Facebook La Fabbrica dei Malati. In cosa consiste questo quiz? Il quiz si svolgerà sulla pagina Facebook, come dicevo prima, tramite i vostri commenti. Ognuno di voi potrà commentare una sola volta e scrivere il peso di zio Sergio. Chi indovinerà il peso di zio Sergio vincerà con lui un aperitivo. Sì, avete capito bene, proprio con zio Sergio in persona, vincolo. Insieme. Commentate, 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 vi faccio un esempio. Allora, se credete che zio Sergio pesi 121,21 kg, dopo la virgola mi raccomando non mettete più di due cifre. Chi si avvicina di più al peso originale di mio zio Sergio, vince il famosissimo aperitivo. Ah, la cosa più importante, dimenticavo, il quiz può durare, quindi potete commentare, fino alle ore 20 del 13 agosto 2014. Insieme. Bene ragazzi, per il quiz di oggi è tutto, ci vediamo al prossimo quiz. Un bel saluto ai miei fans, piccolo omaggio confronte ai miei fans. Chi vince. Ma siete i miei fans, quindi comunque chi vince, chi vince ho tanto onore con lei o con lui, qualsiasi... Insieme. Ciao ciao!